Il maggiore Powers mi ha assegnato il comando di questo plot. Qui dentro noi ci comandiamo da soli. Duro, mi fate impressione! Sarcastico. Io comandavo il mio reparto premilitare all'università. Dormirò meglio di notte adesso che lo so. Eroico. Che cosa vuoi fare? Fabbricare varie. Un film in perfetto stile Eastwood. Un altro allarme fasuro, vero? Andiamo in guerra, ragazzi. Per il ciclo firmato Eastwood. Gunning. Venerdì alle 21. Con Iris.